Cosa sono le colonnine EVE? Delle colonnine di ricarica per auto elettriche, certo! Ma che altro? Te le raccontiamo dal nostro punto di vista. Per noi di Wisman, le colonnine di ricarica a serie EVE sono una piccola soluzione a grandi quesiti come... Se acquisto un'auto elettrica, posso ricaricarla facilmente e in sicurezza? Non sarebbe bello ricaricare la propria auto gratuitamente? Mi piacerebbe risparmiare e proteggere l'ambiente, ma come fare senza rinunciare al piacere della guida? Esisterà mai il modo di fare il pieno a casa propria? Tanta innovazione, ma alla fine questa tecnologia è destinata a durare nel futuro? Sviluppate da Digital Energy Solutions, la joint venture tra Wisman e il gruppo BMW, le nuove colonnine di ricarica per auto elettriche serie EVE sono la soluzione a tutti questi piccoli, grandi grattacapi quotidiani. Ma non si tratta di una semplice colonnina di ricarica. Si tratta di una soluzione che si integra perfettamente con un impianto fotovoltaico e che permette di sfruttare l'energia elettrica autoprodotta in modo gratuito e sostenibile. Una scelta per salvaguardare l'ambiente. Una scelta a prova di futuro.